Si è parlato ieri durante l'incontro con la quarta commissione del Presidente della RAP della questione degli ingombranti. La città di Palermo vive il dramma dell'abbandono degli ingombranti in qualsiasi angolo della città. Insieme abbiamo provato a strutturare alcune proposte da portare avanti. Fra questa la prima cosa è quella di potenziare il servizio di call center. Abbiamo notato che appena tre dipendenti della RAP si occupano di questo servizio, per noi sono pochi, e abbiamo chiesto al Presidente di intensificare questo servizio e c'è stata ampia disponibilità e apertura su questo. Poi c'è il tema che riguarda la premialità. È una città dove occorre sicuramente colpire e punire gli incivili, ma anche premiare i cittadini virtuosi. Quindi abbiamo pensato con il Presidente della RAP di avviare un percorso per premiare o comunque strutturare un servizio di premialità all'interno del CICER, ovvero quei cittadini che conferiscono materassi RAP all'interno del CICER, avere poi un beneficio, un piccolo sconto sull'Atari a fine anno. È un servizio di cui si è discusso, che contiamo di portare avanti ovviamente in una fase ancora iniziale. Un'ulteriore proposta è quella che abbiamo avanzato come commissione al Sindaco Lagalla. C'è una nuova legge, una legge nazionale, che prevede che in caso di abbandono dei rifiuti c'è anche un'ammenda penale. E quindi abbiamo chiesto al Sindaco, così come è stato fatto già a Catania, quindi di immaginare che per quei cittadini che abbandonano i rifiuti con un veicolo la possibilità di procedere alla confisca, quindi allo sequestro del mezzo che è stato utilizzato per abbandonare i rifiuti per strada. Un ultimo step riguardo il Consiglio Comunale. Stiamo a breve, inizierà la discussione sul nuovo regolamento dei rifiuti. All'interno sono previste ulteriori nuove sanzioni e anche la restituzione di una nuova figura, la figura dell'ispettore ambientale, che potrà aiutare la Polizia Municipale per contrastare questo fenomeno degli abbandoni e migliorare la raccolta differenziata.